buonasera pulci facciamo il gatto allora 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 60 minuti 3600 secondi così dicono ma siccome il tempo è relativo come diceva einstein oggi vi parlo di un fisico che non è ma a genialità siamo lì anzi presumibilmente è stato anche intellettualmente superiore anche se all'epoca sua non si calcolava il qi che non è il ci dell'energia cinese dell'energia in cinese che si scrive sempre qui ma si legge ci ma è il cui cioè il quoziente intellettivo di cui peraltro einstein raggiungeva il 193 o 198 mi pare che era già un livello elevatissimo ma einstein se l'era misurato il cui mentre invece a questo personaggio che io amo profondamente da sempre non so per quale motivo ma un personaggio che mi ha sempre affascinato in tutte le sue lucubrazioni il cui non lo aveva potuto misurare perché era nato nel 1856 in croazia da genitori serbi e poi fu naturalizzato americano soltanto in età adulta si chiamava lo conoscete tutti anche solo per sentito nominare nikola tesla nikola tesla è stato forse il più grande in assoluto studioso delle tematiche sull'elettromagnetismo sull'elettricità e sul magnetismo purtroppo è stato da sempre considerato secondo in carica rispetto a edison in realtà sembra pare che tutte le invenzioni additate attribuite a edison in buona parte siano invece state proprio di nikola tesla nikola tesla appunto come dicevo nasce in croazia da genitori serbi nel 1856 morirà poi in america nel 1943 a seguito di un incidente o meglio si scoprirà che aveva un'infinità e mezza di patologie quando subirà un incidente per la strada i complottisti che io vi giuro non li posso soffrire quasi a livello degli spilaspiccioli in tutti i campi io quando leggo complottismi veramente darei una capocciata secca quelli che scrivono perché non si possono leggere certe cose scrissero che probabilmente tesla era stato ucciso dai servizi segreti tesla è morto nel 1943 era nato nel 1856 aveva 87 anni era stato investito da una macchina e nonostante questo e la rottura di tre costole era andato a casa e non si era nemmeno fatto vedere da un medico quando poi iniziarono anche i problemi respiratori a seguito delle costole frantumate e finì all'ospedale si resero conto che aveva una malattia cardiaca che aveva appunto le costole fracassate che gli schiacciavano la cassa toracica e aveva il sangue denso comunque una forma di pressione arteriosa molto elevata insomma era pieno di patologie dell'anzianità ma 87 anni stiamo parlando del 1943 la vita media di un essere umano era nei 60 anni che motivo avrebbero avuto i servizi segreti di far fuori un vecchietto di 87 anni che dichiarato peraltro malato di demenza senile e quant'altro all'età di 87 anni veramente i complottisti a volte non sanno dove andare a pescare per dire bagianate comunque non è stata neanche l'unica bagianata che hanno scritto perché se andiamo a vedere in giro per il web si leggono delle cose sul povero signor tesla che la metabastano gli hanno dato dell'assessuato all'inizio omosessuale poi assessuato direttamente per la questione che non si è mai sposato e non ha mai avuto figli ma lui non si voleva sposare non voleva aver figli ha avuto una fitta corrispondenza con due o tre ragazze con due o tre donne sia sposate sia nubili ma non ha mai avuto un interesse peculiare nel crearsi una famiglia peraltro lui soffriva di una forma di disturbo ossessivo compulsivo e quindi aveva tutti dei rituali compulsivi presumibilmente era un taurettiano cioè aveva la sindrome di tauretta anche se non gli è mai stata dichiarata ovviamente perché però dai suoi comportamenti lui aveva dei rituali da da fare per esempio quando andava a mangiare doveva ripulire tutte le posate tutti i cucchiai tutte le forchette tutti i coltelli sempre nello stesso ordine poi i piatti i bordi dei piatti aveva delle compulsioni si chiamano cioè delle fissazioni che doveva ripetere in un certo ordine per cui ma normalmente proprio nella storia della della genialità in generale moltissimi dei grandi geni proprio della storia sia in campo fisico che in campo scientifico che in campo musicale che in campo artistico hanno sempre sono spesso stati personaggi che avevano comunque delle sindrome psicotiche come la tauretta e l'asperger o l'autismo da van gogh a mozart a appunto tesla e molti altri quindi niente di anche beethoven quindi niente di nuovo all'orizzonte ma a prescindere dal contesto storico un'altra bufala che girava tanto era una foto di tesla messo in costume da bagno davanti a una ragazza che lo guarda così al mare in realtà non era tesla ci somigliava molto ma era un bagnino della zona e ora non ricordo le altre bufalate i vegan convinti si vantano del fatto che tesla fosse vegetariano in realtà tesla non è mai stato vegetariano anzi tra i suoi piatti preferiti figuravano proprio lo spezzatino il fagiano e l'abbacchio forse non ricordo comunque un'altra pietanza a base di carne solo che negli ultimi 30 anni di vita quindi stiamo parlando da quando aveva quasi 60 anni fino ai quasi 90 della morte aveva ridotto drasticamente la sua dieta e mangiava esclusivamente pane latte miele e beveva acqua ma in gioventù lo ricordano per aver mangiato come uno sesso peraltro perché mangiava tantissimo edison stesso che si era trovata a un convegno e quindi poi a una cena con lui aveva dichiarato che gli aveva visto chiedere il bis di ogni portata quindi un bis di antipasto un bis di primo un bis di secondo un bis di contorno e via dicendo col dolce e non si capacitava di dove mettesse tutto quel cibo perché tesla era un metro e novanta per 64 chili e quindi aveva anche appurato a livello scientifico che aveva un metabolismo fantastico beato lui io sono il contrario neanche perché non sono un e 64 sono un e 57 per 63 64 chili buoni mettiamola così non mi sono più pesata sono anni che non mi peso e non ci tengo neanche a saperlo ma in generale non sono come tesla e non ho neanche il suo metabolismo ora a prescindere dal contesto storico di nikola tesla e a prescindere anche dal contesto delle bufale su quel povero cristo di nikola tesla la bufala peggiore in assoluto che hanno inventato su tesla e che lui segretamente avrebbe partecipato all'esperimento filadelfia dell'esperimento filadelfia poi farò un video a parte perché è stato un esperimento estremamente interessante peccato però che l'esperimento filadelfia che peraltro viene anche contestato in alcuni siti come non vero come inventato come mai esistito mentre altri siti complottisti lo calcano in maniera esagerata sostenendo che abbiano addirittura ucciso i testimoni sempre i servizi segreti tra l'una e l'altra diciamo che l'esperimento filadelfia ci fu e funzionò in maniera un pochettino poco simpatica perché sterminò mezzo equipaggio ma ne parleremo in un altro momento in un altro video in un altro contesto anche perché di paranormale nell'esperimento filadelfia non c'è sta niente ma appunto la bufala su quel poveraccio di tesla è che lui segretamente avrebbe partecipato all'esperimento ce l'ho ancora qua perché devo ancora finire gli altri lavori e poi sperimenti tutti insieme in realtà l'esperimento filadelfia venne condotto nel 1945 tesla morì nel 1943 quindi non potrebbe aver partecipato all'esperimento filadelfia neanche volendo a meno che non l'abbiano portato con tutta la bara o non sia stato il fantasma di tesla a chiacchierare con gli altri scienziati dell'esperimento filadelfia per cui diciamo che anche quella è un'emerita cavolata che gira per il web ma per il web girano tante di quelle cavolate che voi non ce n'avete un'idea che tutte le volte che io leggo qualcuno che mi scrive o che mi dice a voce ma l'ho letto su internet ci dico complimenti per la cultura vabbè a prescindere anche da questo perché parlo di tesla io faccio un video grosso modo sul paranormale o comunque su ciò che ruota intorno al paranormale anche alla lontana come la teologia o la mitologia però è sempre comunque argomento di paranormalità perché tesla tra un esperimento e l'altro sulla corrente elettrica tesla è stato l'inventore per eccellenza della corrente alternata lui dobbiamo la corrente alternata di conseguenza poi tesla comunque lavorava nei centri di ricerca spesso proprio per lo stato americano molte volte invece era finanziato da alcuni magnati come morgan e altri miliardari che finanziavano certe sue ricerche e di conseguenza il suo ambito di studio era l'elettromagnetismo l'elettricità in sé e il magnetismo in sé successe però e qui entriamo nella paranormalità un incidente in laboratorio mentre tesla stava testando proprio una sua apparecchiatura che avrebbe dovuto creare dei bilanciamenti elettromagnetici che ora non vi sto a spiegare perché è complessa come situazione e dovreste capirvene di impianti elettromagnetici comunque mentre faceva questo test ci fu un'esplosione chiamiamola così di raggi elettrici e una scossa lo colpì in pieno scaricando sul suo corpo una cosa come circa 3500 volt ora fortunatamente il suo assistente perché aveva anche un assistente in laboratorio accorgendosi immediatamente dell'incidente staccò in maniera fulminea la corrente salvandolo dalla situazione però lui comunque prese la botta nel momento in cui venne colpito da questa scarica elettromagnetica a suo dire creò con il suo stesso corpo una zona di fulcro che aprì momentaneamente una sorta di finestra dimensionale proprio di fronte a lui e lui per alcuni istanti disse che aveva visto attraverso questa finestra passato, presente e futuro mescolati in un insieme tutto insieme questa esperienza durò pochi istanti e quindi venne catalogata come comunque incidente seppur Tesla prese gli appunti di ciò che vide in quel momento e non poteva essere più ripetuta a livello di esperienza visiva perché non poteva rischiare di beccarsi in altra botta a 3500 volt o watt che fossero e di conseguenza diciamo che l'esperienza visiva di quel fatto particolare non poteva essere più ricreata ma c'è un ma e qui un po' nel complottismo ci entro ma perché ci devo entrare per forza perché perché appunto Tesla era un ricercatore e i ricercatori è noto anche i ricercatori del paranormale che siano hunting che siano occultisti che siano di altre razze estirpi in ogni caso tutti i ricercatori quando si trovano di fronte a un'esperienza che può dare nuove soluzioni nuove nuovi motivi di ricerca stessa e nuove risposte nell'ambito della loro ricerca fanno di tutto per testare in qualche modo nuovamente l'accaduto e qui ripeto nasce il complottismo mio in parte perché narra leggenda che Tesla in realtà avesse raccontato in seguito negli anni di aver riprodotto una scarica di grossa entità energetica elettromagnetica colpire un fulcro posizionato nella stessa situazione nella quale si era trovato lui all'epoca dell'incidente spero inanimato mi auguro ma non ci sono dati certi in merito e aveva potuto studiare un'apertura a vortice proprio di una finestra dimensionale su uno spazio nel quale il tempo passato presente e futuro si mescolavano in immagini continue il complottismo nasce dal fatto che Tesla lo raccontò in età anziana quando già era stato etichettato come portatore di demenza senile e quindi diciamo che non era più tanto preso in considerazione poi Tesla aveva un'altra abitudine Tesla aveva una testa una mente che seppur aveva le sue pecche appunto i suoi disturbi ossessivo compulsivi la sua repulsione inspiegabile per i capelli degli altri lui provava disgusto per i capelli aveva tante ossessioni era appunto aveva il disturbo si chiama ossessivo compulsivo è un disturbo psichiatrico ma aveva anche la facoltà la capacità geniale molte volte di non avere la necessità di seguire un progetto anche i suoi marchi ingegni i suoi macchinari la stessa sua invenzione appunto dell'energia alternata molte volte non aveva uno schema iniziale Tesla non aveva bisogno il coso di Fatamorgana e Merlino era per prendere un foglio a caso non aveva bisogno di creare un progetto di scriverlo di disegnarlo di prenderci gli appunti e poi di mettersi lì e costruirlo Tesla era capace di immaginare tutto il progetto e seguire direttamente l'immagine della sua testa arrivando detta da lui a rendersi persino conto se un progetto poteva avere dei falli o dei laschi nel momento della sua messa in montaggio attraverso l'immaginazione semplice del progetto già creato quindi aveva una facoltà immaginaria una facoltà di visualizzazione che esula dall'umana media comprensione infatti moltissimi dei suoi appunti o definiti tali sono in realtà pressoché incomprensibili per chiunque perché Tesla era capace di scrivere C-N-A-K e da lì costruire un macchinario intero perché a lui servivano solo quelle tre cose da ricordare il resto era già tutto disegno compreso piantato nella testa di questa appunto scoperta o ricerca che lui asseriva di aver fatto anni prima e quindi della creazione di questo vortice di finestra dimensionale non furono mai trovati progetti appunti o scritti un po' la sua abitudine di non prendergli gli appunti un po' che molti dei suoi appunti presi vennero svenduti dall'hotel nel quale soggiornava quando venne a mancare perché l'hotel stesso requisì lui era solo non aveva parenti non aveva figli non aveva nessuno requisì le cose e le svendette per pagarsi quello che non era riuscito a pagare il professore morendo prima di saldare il conto e un'altra parte vennero requisiti proprio dallo stato americano e dai finanziatori per i quali lavorava in quanto risultavano progetti finanziati da loro e quindi di proprietà delle loro associazioni delle loro società quindi di sicuro su cosa avesse nei suoi progetti o cosa non avesse non abbiamo niente del progetto in sé e della ricerca fatta su questo portale dimensionale che lui asseriva essere riuscito a ricreare abbiamo soltanto appunto la sua testimonianza vocale che lo aveva raccontato in più di un'occasione tesla era anche un personaggio a cui piaceva molto presentare le sue invenzioni e le sue scoperte in maniera plateale come se fosse uno spettacolo quasi un illusionismo il suo generatore elettrico lo presentò su un palco con un effetto che faceva sembrare che lui stesso fosse seduto sotto al centro di questo generatore elettrico con tutti i fulmini che gli cadevano intorno in realtà era un gioco di riflessioni con degli specchi ma appunto questa presentazione quasi da illusionista era molto nel suo stile a lui piaceva molto colpire prima l'immaginazione e dopo la concretizzazione del pubblico che stava seguendo la sua tesi la sua invenzione la sua ricerca o quello che stava presentando tesla era questo tesla negli ultimi anni ha avuto anche una grandissima influenza sull'intuizione della quantica sull'intuizione che poi Einstein fece sua anni dopo perché la mise in effetti come una formula fisica reale è uguale mc al quadrato nulla si crea e nulla si distrugge tutto si trasforma ma questo Einstein lo elaborò molti anni dopo e presumibilmente avendo anche studiato comunque sentito parlare delle affermazioni appunto di Nikola Tesla che altro dire il discorso del paranormale riprende semplicemente questo breve pezzettino che riguarda le sue asserzioni sul fatto di essere riuscito prima involontariamente e dopo volontariamente a ricrearlo un portale dimensionale e da lì essere partito dal presupposto che in realtà il presente il futuro e il passato siano un tutt'uno e siamo noi che invece li vediamo solamente dentro alla variabile temporale a causa della nostra inquadratura di pensiero e mentale per questo dicevo che potrebbe essere definito uno dei padri anche della fisica quantistica peraltro sul discorso dei viaggi nel tempo e soprattutto delle finestre sul tempo si potrebbe aprire un dibattito di ore e ore e ore peraltro è un argomento che a me affascina da quando ero microscopica io non so se sono stata fissata con il tempo in qualche vita passata precedente ma ricordo e mia madre mi prende in giro ancora adesso che ero una nana avevo tre anni tre anni e mezzo volevo legare una corda da una parte all'altra della porta noi avevamo delle porte a due ante di quelle di una volta volevo legarci la corda poi farla tipo altalena e farla dondolare in maniera velocissima perché secondo me sarei riuscita ad andare indietro nel tempo ora a tre anni e mezzo no cavolo volevo andare indietro nel tempo non lo so perché però sta cosa mi è rimasta estremamente impressa poi anche perché negli anni ne abbiamo parlato tanto in casa perché te l'ho detto ve l'ho detto no te l'ho detto ve l'ho detto perché siete in tanti 1480 utenti e me l'ha sempre ripetuto e raccontato ricordo che andavo da un amico di mio papà che si chiamava Zanarini stava a Genova era un amico amico con mio papà e lui riparava televisori i televisori di una volta erano a valvole c'erano dentro le le calamitone e io impazzivo volevo che mi regalasse ste calamite ste cose andrivavo a casa con dei sacchettini pieni di cavi fili valvoloni pezzi pezzi di televisori perché secondo me prima o poi sarei riuscita a costruire la macchina del tempo ma ero proprio nana 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 per cui ho sempre avuto sta sta fascino per i viaggi temporali ma a livello proprio storico culturale del viaggio nel tempo dello spostamento temporale ne parlano persino le culture più antiche dai sumeri tutti i popoli mesopotamici in oriente i popoli più antichi e conosciuti fino a oggi hanno in qualche modo nelle loro leggende nelle loro mitologie un qualcosa di legato allo spostamento del tempo fosse anche solo una divinità del tempo come per esempio per i greci Kronos la stessa Bibbia nell'antico testamento e di questo se ne era accorto da Aniken mi pare se non sbaglio lo studioso dei testi antichi nella parte dell'antico testamento quindi la parte che riguarda anche l'ebraismo c'è un passaggio prima o poi me lo vado a cercare io ogni tanto la leggo anche questa perché io leggo tutti i libri sacri soprattutto per capire dove cavolo ci trovano il sacro e c'è un pezzo da qualche parte dove a un certo punto si parla proprio di un'apertura temporale sulla collina di Gerusalemme di fronte al profeta Geremia e a un pastore un ragazzo che si chiama Abimelech insomma che mentre Abimelech e il profeta Geremia stanno discutendo sopra la collina di fronte a Gerusalemme si apre una sorta di portale del tempo proprio di fronte a loro e questo è raccontato anche nella Bibbia e anche in tanti altri miti ripeto come nei miti di Cronos il dio del tempo ce ne sono a Bezzef ora mi dovrei mettere a pensare alla mitologia però diciamo che l'argomento dei portali soprattutto non tanto per i viaggi quanto per l'affacciarsi per il vedere passato presente futuro sono ricorrenti dalla notte dei tempi in tutte le culture del mondo niente sta cosa mi affascina il fatto che Tesla fosse un personaggio così squinternato mi affascina poi a me Tesla mi è sempre piaciuto proprio come personaggio io lo adoro in tutte le sue forme anche solo perché era un metro novanta per sessanta quattro chili che è una forma che io adoro a livello estetico proprio e quindi questa parte poteva rientrare anche nella sezione appunto paranormale perché comunque i viaggi nel tempo seppur facenti parte più della fantascienza che non dell'occulto o dell'esoterismo rientra anche la fantascienza stessa in qualche modo nel paranormale come ci rientrano gli alieni come ci rientrano altre categorie di cose non normali cioè di contorno alla normalità lo considero uno dei padri fondatori di questo tipo di ricerche come padre Ernetti di cui ho parlato come molti racconti di viaggi dimensionali tra cui l'esperienza di quel ragazzo che ha vissuto una vita intera dieci anni di vita in venti minuti caduto a terra in un'altra dimensione e tanti e tanti altri di cui magari poi racconterò o che potete tranquillamente trovare anche in giro per il web e via dicendo 32 minuti perché se parlo di Tesla io non la pianto più ma la devo piantare perché se no non mi si carica il video e quindi vi do la buonanotte ricordandomi qua sotto tutti i link dei vari social dove sono e un po' più sotto 3 o 4 invece dei mille mila link di librerie fisiche e online che tengono in vendita tutti i miei libri ad oggi 5 sia in ebook quindi digitale e sia cartaceo normale di questi qua che che però fumano di carta questo non è mio è quello della collezione è Re Artù perché adesso è uscito Re Artù e Morgana e li ho presi poi i prossimi però mi sa che non li piglio più perché sono troppi se no esco da casa io ciao grazie a tutti